È ora di smetterla, di chiedersi se io abbia una coda o meno, e iniziare invece a chiedersi se tu hai la tua vita sotto controllo. Proprio come pensavo. Era solo una semplice domanda. Lo sai che non ce l'ho. Non stavo parlando con te. Ma sì, Angel, anche tu devi riprendere il controllo della tua vita. Anche se immagino che sia troppo tardi per quello. Perché sei morto? Non c'è bisogno di ricordarmelo. Sono io l'unico normale qui in mezzo.